Cosa dice l'articolo 8 della Costituzione italiana? L'articolo 8 regola i rapporti con le altre confessioni religiose. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, purché non facciano delle cose che sono impedite dalle leggi dello Stato italiano. Lo Stato è laico, dà libertà alle confessioni religiose, a tutte le confessioni religiose che non sono quelle cattoliche. Grazie per la visione! Ciao, al prossimo video, vi aspetto!